Io sono un regista che si chiama Matteo Garrone e sono un regista italiano e ho fatto un film che si chiama Io Capitano. Siamo abituati da anni a vedere le immagini delle barche che arrivano, quando riescono ad arrivare, a volte arrivano, a volte no, lo sapete bene, la conta dei vivi, dei morti e col tempo ci si abitua ai numeri, dietro questi numeri ci sono delle persone e queste persone hanno dei desideri, hanno delle famiglie. Spesso inseguono dei sogni. L'idea nasce dal desiderio di dare forma visiva a tutta quella parte di viaggio che c'è prima e che non si vede e che non si conosce e soprattutto cercare di dare voce a chi di solito non ha voce, cioè fare il film dal loro punto di vista, dare la possibilità allo spettatore di vivere in soggettiva il viaggio emotivo, emozionale che loro vivono. Questo è quello che ci ha spinto a fare Io Capitano, ma ovviamente per realizzare un film sui migranti era necessario fare il film con loro per cercare di avere una verità, quindi raccontare loro insieme a loro, quindi la sceneggiatura del film nasce dall'ascolto, dalle testimonianze di chi realmente ha vissuto questo viaggio epico, perché poi loro sono gli unici veri portatori dell'epica contemporanea oggi. Il film nasce dall'ascolto e dalla fusione di tre storie, l'ultima è quella che riguarda Fofanà, che è stata anche la prima che ho ascoltato tanti anni fa. Questo racconto di Fofanà è rimasto dentro la mia testa per tanti anni e ricordo che quando lo ascoltai la prima volta pensai a quei grandi romanzi d'avventura di Stevenson, di Conrad, di Jack London. C'è un ragazzo che a 15 anni deve portare in salvo 250 persone con una barca e non sa come si guida una barca, questo è già un inizio di un romanzo d'avventura. Poi durante un lavoro lungo di documentazione, anche molto doloroso, ho raccolto le immagini del viaggio in deserto, dei centri di detenzione in Libia, delle torture e quindi il film piano piano ha preso forma ed è diventato un road movie, un viaggio attraverso l'Africa e al tempo stesso anche un viaggio di formazione di un ragazzo che parte ragazzo e arriva uomo. Allora, in realtà, non ho deciso di far cambiare il bato, non ho deciso di fare. Quando eravamo in Libia, non avevamo la cosa con un amico e l'argento che aveva non aveva mai avuto. L'argento che aveva, non aveva mai avuto un attimo per gli uomini, non aveva mai avuto un ragazzo che aveva mai avuto un bato. Non, non. Vorrei, mi dicevi che era solo spesso. E'mmo sia così lì. Io gli ho detto non, era proprio possibile. Poi, ero, ero, parlato con un amico. Dopo tutti gli altri, dopo che ci ho dissi. E non ero umani fuori. Abbiamo trovato 250 persone. Circa 15, 25 uomini, e una vecina. C'était dur, ma una volta che abbiamo avuto la settimana, non c'erano più di soli, non c'erano più di soli. Ora arriviamo a vivere, ora arriviamo a tutti i morti. Una volta di me, io avevo veramente paura, ma non volevo mostrare alla gente che avevo veramente paura, perché tutto il mondo è contato. E gli infatti mi chiedono se si avessero, mi chiedono, si avessero, si avessero. Allora arrivavamo, tutti arrivavano, in termina di musica e la base. Come si può fare? C'era così. Io avevo paura, ma non potevo mostrare alla gente, altrimenti si poteva fare problemi sul bambino. Ma io ero il primo spettatore che assisteva a qualcosa che non avevo mai visto, ma che loro avevano vissuto durante il loro viaggio. Per questo a volte c'è questa verità, perché io ho creato le premesse perché loro rivivessero qualcosa che avevano vissuto in passato. E loro erano anche molto orgogliosi di poter finalmente far vedere al mondo quello che hanno subito e che, come sai, spesso non viene creduto. Far finalmente vedere qualcosa che spesso loro non riescono a comunicare. io sono contento per il film, ma di volte quando guardo il film io sono contento, d'un côté io sono anche triste, di vedere delle immagini che ho già attraversato, che mi hanno fatto di mare, con le torturi e tutto. E con l'emozione del film quando mi metto il film non è molto facile. La prima volta che ho guardato il film io ho cercato di più di cinque minuti e non arrivo a Parigi. Io penso che chiunque cerca di salvare vite umane è sempre dalla parte del giusto. E quindi ha il mio appoggio umano e la mia stima e la mia ammirazione. Quindi di conseguenza anche per le ONG che fanno questo. C'è una mia ammirazione perché sono dalla loro parte. Io penso che sono sempre triste perché dopo 10 anni di mio viaggio io vedo che non ci sia sempre la stessa. È sempre la stessa. È sempre più e più e più. È la fine che mi piace molto. È il momento che io sono il capitale. Io sono il capitale.